Avevamo ricevuto tre avvertimenti di evacuazione dall'eserito israeliano negli ultimi giorni, sabato, domenica e lunedì per telefono. Tre giorni fa due razzi avevano colpito il quarto piano danneggiando il nuovo centro diagnostico e il secondo piano dove avevamo appena avviato un nuovo servizio di chemioterapia. Quando ieri l'ospedale è stato colpito i civili stavano pregando per la pace nel cortile dove giocavano i bambini. Consideriamo questa strage un crimine contro l'umanità ma continueremo a tenere l'ospedale aperto. Monsignor Osam Naouma ha gli occhi scavati perché non ha dormito tutta la notte e risponde ai giornalisti con accanto il leader delle altre chiese di Gerusalemme, ortodossa, latina, protestante, insieme nella condanna della strage all'ospedale, insieme nella determinazione nel portare avanti le opere educative e sanitarie cristiane in terra santa. Monsignor Naouma aveva visitato l'ospedale anglicano di Gaza appena due settimane fa. Eccolo come era prima del bombardamento nelle immagini girate da TV 2000 a Gaza nell'estate del 2022. Un luogo di guarigione e di riconciliazione a Gaza, un piccolo ospedale con 80 posti letto ma prezioso per migliaia di palestinesi bisognosi delle cure già scarsissime prima della nuova escalation. I responsabili delle chiese non prendono posizione sull'autore del razzo che ha causato la strage ma fanno appello ai leader del mondo, a partire dal presidente Biden, oggi in Israele. Mi aspetto dal presidente Biden e da ogni leader del mondo che si schierino per la pace e per la giustizia, che pongano fine al conflitto sulla base e il diritto internazionale. Vogliamo essere, conclude il vescovo anglicano a nome di tutti, una voce per la pace e la riconciliazione a vantaggio dei palestinesi e degli israeliani.